questa è la storia di mary jane una bambina diventata pazza che ha ucciso e squartato i genitori dopo essere stata portata in un manicomio riuscì a scappare e ad uccidere tutti i controllori e i dottori vagò per il suo paese per una settimana sterminando tutti gli abitanti finché la polizia non la uccise sparandola in testa condividi con cinque tuoi amici entro due minuti se spezzerà la catena il fantasma di mary jane verrà a trovarti stanotte e ti ucciderà questo è quello che scrivono su di me sul web io sono una normalissima bambina solo che ho avuto qualche problemino ho ucciso per sbaglio i miei genitori e tutti gli abitanti del mio paese come se fossi stata controllata da qualcuno come se un'entità malvagia si fosse impossessata di me facendomi uccidere tutti ma io non volevo ero solo annoiata e volevo giocare ma non intendevo giocare a questo tipo di gioco ora tutti mi odiano mi reputano un demone mi considerano un mostro io sono disperata non ho più nessuno con cui giocare oh sono già passati due minuti come vola il tempo ma non temere tra poco sarò lì